Radio Radicale, siamo con l'On. Simonetta Matone della Lega per ricordare Silvio Berlusconi. Anche se lei è parlamentare dall'inizio di questa legislatura, lei ha avuto una lunga esperienza come tecnico nei governi Berlusconi. In queste occasioni lei ha avuto modo di conoscere Berlusconi e vedere come i suoi esecutivi hanno lavorato. Allora, qual è il suo giudizio politico su Berlusconi, al di là di quello che si è detto in ogni modo per cercare di screditarlo? Io ho solo ricordi positivi perché io sono stata capo di gabinetto del ministro per le pari opportunità nel governo Berlusconi e lo abbiamo sempre avuto a fianco perché ci ha consentito, ma con grande entusiasmo e grande anche, come posso dire, credendoci profondamente, ecco, quel governo comunque ha portato a casa una serie di risultati sul piano sociale incredibile. Il primo risultato è stata la legge sullo stalking, sono state poi le aggravanti per la violenza contro le donne, è stata la creazione, per esempio, del Garante Nazionale per l'infanzia. Ecco, tutti dimenticano che tutte le principali leggi in favore di donne e minori oltraggiati, maltrattati, vilipesi e sfruttati, sono tutte nate all'ombra dei governi berlusconiani. Mi riferisco alla legge sulla pedocornografia, mi riferisco alla legge contro la prostituzione minorile, mi riferisco alla tratta degli esseri umani, quindi diciamo che al di là di una certa vulgata che vedeva Berlusconi trattare le donne come oggetti, io da tecnico posso dire che è vero l'esatto contrario. Io sono stata, appunto, capo di gabinetto, poi sono stata vice capo vicario del DAP, dell'amministrazione penitenziaria e anche in quel caso, sempre col governo Berlusconi, col ministro Nitto Palma, abbiamo fatto tantissime cose in favore della popolazione detenuta. Io sono convinta che Silvio Berlusconi fosse un vero e sincero libertario, tra virgolette, un termine che non si usa più, ma un termine che va, secondo me, rispolverato perché si attaglia perfettamente la figura di Berlusconi, che ha sempre creduto in battaglie civili di libertà. Senta, come ha spiegato lei questa aggressione politica contro Silvio Berlusconi, questa intolleranza e soprattutto, insomma, abbiamo visto che Berlusconi ha subito qualsiasi... Sì, Berlusconi è stato letteralmente perseguitato dalla magistratura italiana perché non lo si è... Senta, i magistrati, da alcuni... Da una parte della magistratura italiana ha avuto un numero esorbitante di processi da cui è uscito quasi sempre assolto. Ma perché a Berlusconi non si è perdonato, secondo me, il fatto di essere veramente lontano dai poteri forti, di essere un alieno in un mondo controllato da altri. Lui ha dovuto lottare perché nessuno credeva in lui. Io ricordo l'inizio nel 92 quando nessuno dava credito e fiducia a quest'uomo. Questo uomo non ha mai dato retta a nessuno e sempre... Oggi ho sentito un'intervista di Casini molto carina nella quale diceva, chiedeva consigli a tutti e poi faceva come voleva. Allora, un altro aspetto che mi ha incuriosito è stato il fatto che molti magistrati... Io, parlando con alcuni magistrati, a lei prima mi hai ricordato il nome di Nitto Palma, ma anche il senatore Galliendo. Io ho notato che molti magistrati che sono entrati poi in politica in Forza Italia lo hanno amato molto. Allora, come ha considerato questo rapporto, diciamo, contrastante alla scorsa legislatura? Ecco, c'era anche qui Giussi Bartolozzi che oggi lavora con Nordio. Beh, perché, diciamo, i magistrati fuori dal coro e non di magistratura democratica o di area sono ed erano una rarità. Quindi qui pochi che non lo erano, ovviamente, avevano trovato in Forza Italia anche una sponda, come dire, pur nella asetticità della nostra funzione. Però, ecco, diciamo che erano una rarità quelli che fossero, per così dire, se non berlusconiani, ma, insomma, vicini a Berlusconi. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa. Allora, noi abbiamo, ricordiamo Berlusconi per questa sua grande capacità di mettere d'accordo anime diverse del centro-destra. Lei ha idea a chi potrebbe raccogliere oggi questo testimone per cercare di mettere d'accordo il centro-destra? Secondo me solo Gianni Letta lo può fare. Gianni Letta, nonostante l'età, è l'erede ideale. Ed è anche, secondo me, più pacato e più equilibrato di Silvio Berlusconi. Io lo conosco bene, è un uomo dalle qualità straordinarie. Ha veramente una marcia in più. La ringrazio molto per questa bella testimonianza. Ringrazio l'On. Simonetta Matone della Lega.